Alla televisione americana c'era Caterine Zeta Jones Siamo pronti? Siamo pronti Siete tutti? Sì, pronti Ma ora c'è pronti? Pronti, pronti Insomma, per fatto, a breve, raccontò che una volta c'era Caterine Zeta Jones Alla televisione americana che disse adesso c'è bene finita l'intervista me ne vado a casa, mi faccio il mio cricchetto caprae di Montesano Se posso proporre, signori, di solito per i gruppi Sono bianco, 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 frutti di bosco Non so, però, mi facciamo una ciotola così I romani inventarono un barco, non c'è? A tutto c'è? La chiave di volta, la famosa chiave di volta Sì, è bella Ok, no, non c'è mai Non tutti i piatti Comunque, infatti i templi greci erano tutti a scadoletto Grazie 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 A electric Practice Grazie 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 Grazie. 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 Buongiorno questa sera vi mando il conto del medico il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.